pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati in questa sedicesima domenica incontriamo altre tre parabole che ci parlano del regno dei cieli cioè del modo di regnare del modo di agire di dio nel cuore di colui che lo accoglie e nella storia noi abbiamo tre parabole quella sul grano e la zizzania con relativa spiegazione e le due parabole parallele sul seme di senapa e sul lievito partiamo dalla prima parabola il grano e la zizzania che cosa ci dice fondamentalmente che dio opera nel cuore nella storia ma vi è anche la compresenza del male che dio tollera e che solo alla fine debellerà definitivamente abbiamo quindi la seconda e la terza parabola del grano di senapa e del lievito il contrasto che subito salta agli occhi è quello tra la piccolezza attuale e la grandezza finale piccolo semino di senapa albero enorme che ne consegue il poco lievito che fermenta una massa enorme di pasta cosa ci dice questo che dio parte dalle cose piccole la sua parola la sua presenza è come un semino nella terra del cuore agisce in modo nascosto cresce gradualmente fino a giungere alla sua pienezza ecco per scelta in questo commento sosteremo in particolare sulla prima parabola quella del grano e della zizzania cercando di metterne in luce alcune profonde implicazioni esistenziali vediamo un po nella parabola abbiamo una scena abbastanza comune in palestina un tale semina del grano nel terreno un nemico per dispetto va e gli semina la zizzania un erbaccia infestante che quando è piccolo è uguale al grano ma quando cresce non solo si distinguono bene ma tende anche a soffocarlo allora i servi chiedono chi ha fatto questo e il padrone risponde un nemico a livello esistenziale ci fa prendere consapevolezza che c'è all'opera un nemico nella nostra storia e di questo nemico nella vita bisogna tenerne conto e nemico non è la persona che mi è antipatica ma il maligno che semina tentazioni e cattiveria sì il diavolo l'angelo ribelle che cerca di separarci da dio e tra di noi tenerne conto c'è di aiuto per vivere un sano discernimento non tutto ciò che ci passa per la testa e ci sgorga dal cuore è buono c'è dunque da essere vigilanti la domanda successiva dei servi è il punto centrale della parabola vuoi che andiamo a strappar via l'erbaccia ed ecco la risposta del signore che in fondo ci spiazza un po no aspettate alla mietitura avverrà la separazione quindi da una parte abbiamo il signore che tollera pazientemente la presenza del male dall'altra abbiamo i servi che non lo tollerano e vorrebbero estirparlo rapidamente qui cosa c'è di fondo miei cari quello scandalo davanti a cui l'uomo si trova da una parte abbiamo lo scandalo del male presente sino alla fine del mondo dall'altra lo scandalo della pazienza di dio che lascia che il male cresca col bene che l'empio prosperi col giusto e non solo ma anche il fatto che esso persista anche dopo la venuta di cristo uno si sarebbe aspettato una risoluzione definitiva un po come il battista che attendeva la venuta di un messia che avrebbe separato giusti e peccatori grano dalla paglia e bruciato la paglia con fuoco inestinguibile ma perché dio fa così perché dio è paziente e tollerante perché dio ci ama profondamente e ci dà tempo di cambiare e occasioni per crescere dio lo sa bene che la nostra crescita è lenta graduale e si serve persin delle prove che incontriamo e delle tentazioni che subiamo per aiutarci a maturare non tutto si può risolvere subito molte cose si maturano solo nel tempo vanno attraversate vissute e persino i limiti e la zizzania presenti negli altri sono un'occasione per imparare ad amare un po di più d'altronde se dio agisse come i servitori quanto grano meraviglioso non avremmo pensate un po potremmo dire che il buon ladrone in fondo è zizzania diventata grano san paolo era un feroce persecutore ed è diventato un apostolo infaticabile o pensate san francesco d'assisi giovane di mondo cresciuto in una famiglia borghese e agi è diventato il santo poverello un gigante di umiltà e di penitenza vedete la tolleranza di dio non significa che gli sia connivente con il male né che ci dia il permesso di compierlo ma questa parabola ci mette in guardia da una intolleranza dannosa verso se stessi e verso gli altri dovuta spesso a un eccesso di paura del male o di chi lo commette o una intransigenza frutto di una scarsa misericordia di uno scarso contatto empatico con l'altro di un preteso tutto e subito che non dà tempo in modo all'altro di maturare cosa che dio non fa assolutamente con ciascuno di noi solo che a volte lo dimentichiamo ma quanta pazienza dio usa con noi quante cose ha coperto in quante cose c'è dato modo di maturare e da questa memoria grata che sgorga un cuore nuovo capace di rinunciare a ogni forma di intransigenza verso di sé e verso gli altri sì anzitutto verso noi stessi siamo in un cammino di maturazione e crescita san paolo dice tendete alla perfezione non pretendete la perfezione se noi per primi pretendessimo la perfezione intransigenti con noi stessi o addirittura prendendoci in odio lottando strenuamente contro i nostri difetti illusi di poterci svegliare domani ed essere perfettamente risolti e senza tentazione alcuna vivremo vittime di un inganno quello di un perfezionismo sterile e asfissiante e tra l'altro una vita senza difficoltà alcuna non è la vita reale la vita reale è fatta di pensieri sentimenti tentazioni occasioni suggestioni ispirazioni anche il nostro cammino di santificazione è graduale come diceva tertulliano non nasciamo cristiani lo diventiamo man mano grazie alla preghiera all'assiduità nei sacramenti alla meditazione della parola cresce in noi la presenza di dio possiamo unirci sempre più a lui ma passo dopo passo giorno dopo giorno dio pian piano va bonificando il nostro cuore ci aiuta e ci libera tante dinamiche distorte alcune dinamiche profondamente radicate o alcuni traumi psicologici probabilmente ce li porteremo dietro per tutta la vita ma avremo la grazia per cercare di dirigerle nel modo migliore possibile col suo santo aiuto in lui poi tutto sarà definitivamente purificato sanato a livello comunitario quante volte si è tentati invece di buttare a mare i peccatori di tagliare i ponti riducendo la chiesa le parrocchie i movimenti a delle sorte di sette di giusti un'intransigenza che bolle condanna l'altro alla minima debolezza gesù invece sembra fare il contrario non si separa da loro ma va con loro non li abbandona gli offre il perdono tolera persino nella cerchia dei dodici un traditore al quale lava pure i piedi si circonda di discepoli che alla fine lo abbandoneranno si comprende allora il netto contrasto della parabola da una parte il comportamento di dio dall'altra la rigidezza dei suoi servi capiamo bene qui non si tratta di chiudere gli occhi davanti al male di non intervenire di non correggere di non mettere in atto tutte le prassi necessarie per favorire la correzione la maturazione di una persona e non si tratta neanche di una tolleranza intesa come indifferenza ma di una pazienza che scaturisce dall'amore pensate anche in semplicità alle relazioni se io inizio a fissarmi sui difetti dell'altro e pretendo di estirparglieli entrando in una modalità tipo ti voglio cambiare a tutti i costi finirò per essere ossessionato dal limite dell'altro dai suoi difetti veri o presunti e così facendo tutto preso dalla sua pagliuzza non noterò la trave che nel mio occhio cioè questo atteggiamento duro intransigente che tra l'altro non favorisce il cambiamento e la maturazione dell'altro perderò di vista l'altro il bene possibile e attuale dell'altro riducendolo alla somma dei suoi difetti e dei suoi limiti dimenticando che dio non mi chiede di cambiare gli altri semmai di amarli noi in fondo maturiamo se e nella misura in cui ci sentiamo amati ed ecco la frase allora lasciate che ambe due crescano insieme ci ricorda che siamo chiamati ad imparare a vivere in mezzo alla zizzania a santificarci dentro questo mondo e queste situazioni concrete la mescolanza tra grano e zizzania non ci deve stupire la troveremo ovunque a partire dal nostro cuore e quindi nella famiglia nella comunità nella chiesa intera occhio a non immaginare un'idilliaca perfezione che si avrà solo in paradiso non esiste la persona ideale la famiglia ideale la comunità ideale ma esistono quelle reali da amare con i loro pregi e difetti in fondo potremmo dire che la zizzania è proprio il luogo dell'esercizio della misericordia misericordia sperimentata da parte di dio misericordia da esercitare su se stessi e verso gli altri il commento della parabola poi evidenzia un aspetto complementare cioè il fatto che dio effettivamente alla fine opererà la separazione eliminerà definitivamente il male giudicherà anche ciascuno certo perché dio ci prende sul serio e prende sul serio la nostra responsabilità ma lo farà lui alla fine non spetta a noi adesso alla luce di tutto ciò che il signore ci aiuti a vivere con sapienza e pazienza tendendo umilmente alla perfezione nell'amore ma senza pretenderla sapendo che dio è all'opera gradualmente in ciascuno di noi che il buon dio vi benedica a tutti pace e bene